Domani, mercoledì 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'ASL Salerno, l'associazione a voce alta, il CIF Centro Italiano Femminile Provinciale, per l'occasione presentano un videospot sul tema nel corso di un incontro che si terrà sulla piattaforma Zoom alle ore 17. Il video ha un testimonial d'eccezione, il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. È stato realizzato dalla regista Giustina Laurenzi, l'attore Roberto Lombardi e il videomaker Roberto Pisapia. Il messaggio principale, spiegano i promotori, è un esplicito invito rivolto agli uomini affinché decidano di accettare un aiuto come primo passo del cambiamento. La violenza maschile contro le donne è un problema che ha importanti dimensioni anche nella provincia di Salerno. Il tema genera spesso molteplici riflessioni sul comportamento delle donne vittime. Le domande dovrebbero invece concentrarsi sul comportamento di quegli uomini che scelgono di violare le donne e che credono di avere il diritto di imporre loro i propri bisogni. Per questo l'ASL Salerno, in collaborazione con l'Associazione a Voce Alta e il CIF, ha attivato dal 2016 un centro per il trattamento degli autori delle violenze. L'obiettivo, dicono, è quello di riuscire ad intervenire non solo a protezione delle donne, che resta un obiettivo prioritario, ma anche quello di aiutare gli autori delle violenze a cambiare. È fondamentale riuscire a modificare i comportamenti e la mentalità. I modelli che ispirano la relazione fra i sessi e il senso del nostro stare al mondo, la strada che può condurre ad una profonda trasformazione e ricostruzione individuale e sociale e quella di impegnarci tutti, concludono verso un'informazione e sensibilizzazione sul tema che possa gettare le basi per relazioni più sane. E proprio nella direzione dell'informazione e della sensibilizzazione, va il videospot che sarà presentato domani sulla piattaforma Zoom alle ore 17.